Equilibrio di bilancio oggi è l'approvazione del Consiglio Comunale, l'assessora magari ci fa un excursus di quello che è stato per l'appunto approvato oggi. Sì, oggi abbiamo approvato una delibera molto importante che è quella relativa agli equilibri di bilancio. Mi soffermo adesso sulla prima parte del titolo della delibera. È una delibera dove vengono rivisti tutto ciò che c'è stato da qui nei precedenti sei mesi. Quindi si rifà una ricalibrazione di quelli che sono i capitoli di competenza e di cassa su tutti i titoli dal primo all'ottavo titolo che noi abbiamo. Si cerca quindi di collocare le nuove risorse che sono rientrate e così in questi primi sei mesi si ha anche una visione di quelle che sono state le maggiori entrate. Queste maggiori entrate vengono rinserite nei capitoli idonei, nonché anche gli ulteriori finanziamenti che sono stati erogati dagli enti superiori al Comune. Dopodiché c'è l'altra parte altrettanto importante della delibera che è quella della cosiddetta variazione di bilancio. Cioè con questa delibera noi abbiamo deciso come spendere in maniera condivisibile per tutti quanti i cittadini sulla parte investimenti quello che era l'avanzo libero di amministrazione che quantificavamo in 5 milioni di euro. È chiaro che questo 5 milioni di euro non può essere utilizzato in maniera discrezionale perché ci sono stati degli impegni presi precedentemente. Penso per esempio ai 2 milioni che serviranno per chiudere finalmente la trattativa sullo stadio, i 930 mila euro che riguardano quella quota di accantonamento prudenziale che il Comune deve fare in virtù del 49,7% di quote che ha all'interno del mote, ai 497 mila euro per incrementare quella quota di contributo che non è stata data nella sua interezza da parte del PNRR, più somme urgenze, 62 mila euro per quanto riguarda il rifacimento della struttura collocata in collaborazione con la tua del piazzale San Francesco. Poi ci sono altri tipi di intervento, i 770 mila euro per quanto riguarda la pavimentazione stradale che si vanno a raggiungere ai 380 già messi nel bilancio di previsione, quindi arriviamo per la pavimentazione stradale a oltre un milione di euro che anche quest'anno verrà utilizzata per il rifacimento delle strade che attualmente già potete vedere in quella parte dei 380 cantierizzata in questi giorni. Abbiamo messo 277 mila euro per quanto riguarda la sicurezza sui porti di cittadini e quindi sul controllo, 250 mila euro per la manutenzione ordinaria del patrimonio sia normale che scolastico del nostro territorio, 180 mila euro per implementare la quota del verde, 128 mila euro per l'acquisto di un automezzo che faciliterà l'opera degli interventi da parte dei nostri operai sia per quanto riguarda la manutenzione stradale che il verde nonché l'acquisto di macchine per adibire a protezione civile, somme per adeguamento contrattuali, 270 mila euro per le maggiori somme derivanti dai costi di menza e trasporto scolastico, 125 mila euro per gli impianti sportivi. Abbiamo cercato quindi di colmare e coprire quelle che erano tutte le richieste che sono pervenute dai vari settori. Via Longo e l'acquisizione della sede di Banca Italia sono altri argomenti importanti oggi all'ordine del giorno? Sì, sicuramente sì, la delibera non è la mia, sono di altri colleghi, sono indirizzi importanti. Sull'ex Banca d'Italia è chiaro che c'è già la volontà e oggi verrà confermata di acquisto mediante un mutuo che è pari a quella che è la quota che noi già pagavamo con gli affitti e più ci sono delle delibere di indirizzo che riguardano sia Via Longo con 2 milioni e mezzo per il rifacimento delle prime due palazzine, un milione di euro da destinare alle scuole, altri 2 milioni e mezzo per quanto riguarda la viabilità cittadina e 2 milioni per completare altri interventi.